Va bene, allora, ancora buonasera a tutti, oggi essendo una lezione online cerchiamo di fare un argomento che soffra un po' meno del fatto che non siamo tutti in aula e quindi come avete visto le lezioni di programmazione tendono ad essere più interattive, ho scelto un argomento che sia più sulla parte, diciamo così, teorica del corso, però ciò nonostante voi conoscete come funziona Zoom, c'è il canale chat aperto, quindi sentitevi liberi in qualunque momento di fare delle domande o interventi sulla chat di Zoom, io ogni tanto con l'occhio guarderò da questa parte per controllare sull'altro schermo se ci sono delle domande oppure tranquillamente aprite il microfono e parlate, tanto come sempre siamo tra di noi, non c'è nessuno che ci incuta ha timore rispetto al parlare o intervenire. Ok, allora l'obiettivo di oggi, di questa prima, di un piccolo gruppo di lezioni che faremo su argomenti più di teorici non legati alla programmazione, ma sempre ovviamente legati al funzionamento del calcolatore, è la rappresentazione dei dati. In un certo senso nella prima lezione io vi ho detto guardate che il calcolatore è in grado solamente di gestire dati che siano 0 e 1 e poi un attimo dopo, facendo finta di nulla, ho cominciato a usare degli interi, ho cominciato a usare dei numeri reali, ho cominciato a usare delle stringhe all'interno di piccoli programmi in Python. Allora, come si conciliano le due cose? Beh, si conciliano attraverso una meccanica di codifica dell'informazione, cioè praticamente, anche se noi siamo così abituati da non accorgercene, noi usiamo una codifica per rappresentare i numeri, cioè quando io e noi scriviamo un numero che è appunto 252, per noi il concetto di numero 252 e il concetto di 2 seguito da un 5 seguito da un 2 sono quasi legati indissolubilmente, tanto sono radicati nella nostra formazione in un certo senso, ma in realtà 252 non è altro che una scorciatoia per una sommatoria, sono due centinaia più 5 decine più 2 unità, così poi l'abbiamo imparato, in prima elementare abbiamo imparato queste cose qua, poi sono entrate talmente dentro di noi che non ci pensiamo più. Questo vuol dire che noi abbiamo una notazione, una rappresentazione scritta dei numeri, 2, 5 e 2, che ci permette di ricavare qual è il vero valore del numero, il vero valore di questo numero che è il risultato di questa espressione aritmetica, ci permette di ricavarlo attraverso un metodo sistematico tutto sommato semplice, cioè io vado a usare delle potenze del 2, quindi 10 alla 0, 10 alla 1, 10 alla 2, e le moltiplico per le cifre del numero tenendo conto della loro posizione, quindi parliamo di un sistema decimale posizionale, base 10 perché uso le potenze del 10 per rappresentare i numeri, posizionale perché questo 2 qui non ha lo stesso valore di quest'altro 2 qua, dipende dalla loro posizione perché chiaramente viene moltiplicato per una potenza del 2 diversa. Questo è il sistema in cui siamo abituati a lavorare, potremmo riassumere la lezione di oggi dicendo che il calcolatore fa la stessa cosa ma con base 2 anziché base 10, poi ovviamente cerchiamo di capire come funziona questo. In realtà non esistono solo sistemi di numerazione di questo tipo, noi ad esempio uno di quelli che conosciamo sono i famosi numeri romani che si usano a volte anche per numerare pagine dei libri o per contare i papi che vengono eletti, ma sono numeri ormai quasi più per curiosità, non vengono sicuramente usati per far calcolo, quindi questi sistemi qua non sono mai stati considerati per poter essere utilizzati all'interno del calcolatore. Allora proviamo a strarre e generalizzare un pochino rispetto all'esempio del 252 che abbiamo appena fatto. Ciò che abbiamo fatto è di prendere una formula che è di fatto una sommatoria, avevamo 2 per 100 più 5 per 10 più 2 per 1, cioè una cifra per 10 alla seconda, una cifra per 10 alla prima, una cifra per 10 alla zero. Quindi abbiamo delle cifre, che qui ho chiamato A con I, per 10 elevato a una certa potenza. Quindi io quando scrivevo il 252, il 2 di destra era associato a una posizione I uguale a 0, quindi avevo un A con 0 che era uguale a 2, il 5 associato a un I uguale a 1 e quindi avevo un A con 1 che era uguale a 5 e il 2 associato alla posizione I uguale a 2 e quindi avevo un A con 2 che era uguale a 2 anch'esso. Quindi qua rivediamo di nuovo la malsana abitudine degli informatici di contare partendo da 0 e quindi abbiamo le posizioni della cifra che non sono 1, 2, 3 partendo da destra ovviamente nel calcolare 0, 1 e 2 e le cifre del numero le abbiamo chiamate genericamente A con 0, A con 1, A con 2 usando il pedice 0, 1, 2 per ricordarci la posizione di questi numeri. Quindi noi abbiamo un qualunque numero che era presentato appunto da una sequenza di cifre, questi A con 1, A con 2, A con 3, A con 4 avranno in A con 0, diciamo così, la cifra dell'unità e poi le cifre alla sinistra sono legate a potenze successive della base. Allora noi abbiamo nell'esempio precedente la base era 10 e quello che ci dice questa slide è questa formula vale in generale per una qualunque base B, quindi se metti B uguale a 10 quello che ti dà questa formula, questa sommatoria è esattamente la rappresentazione dei numeri a cui siamo abituati, ma possiamo anche urlare dei valori diversi per B. Ovviamente ogni volta che scelgo una base io dovrò avere un insieme di cifre, perché quando dico A con 1 uguale 5 ad esempio, questo 5 è un simbolo predefinito, io devo avere in base 10, 10 simboli predefiniti che per noi sono le cifre che vanno dallo 0 fino al 9, quindi ogni base avrà un insieme di simboli predefiniti che rappresentano le varie unità di questa base pari al valore della base stessa. Ecco, tutto questo ragionamento lo possiamo traslare tale e quale in base 2. Se quel B della formula precedente a questo punto diciamo che vale 2 e non vale più 10. Allora continua a valere la stessa identica formula, non è cambiata per nulla, ciò che cambia è che in base 2 ovviamente le cifre disponibili sono solamente 2 e chiamiamo come solamente 0 e 1, le due cifre della base 2 e come abbreviazione una cifra che può valere 0 e 1 lo chiamiamo bit, che è semplicemente l'abbreviazione di binary digit. Quindi i numeri in base 2 non sono altro che sequenze di bit, cioè sequenze di cifre che sono pari 0 e 1 e si leggono usando la stessa formula. Quindi questo 1, 0, 1 in base 2, quanto vale? Vabbè, questo 1 di destra vale 1 per 2 alla 0, sarebbe l'a con 0 della formula precedente. a con 0 per 2 alla 0, 2 perché la base è B e l'abbiamo posta uguale a 2. Poi abbiamo l'a con 1 che vale 0 e quindi un secondo termine che è 0 a con 1 per 2 alla 1 e poi abbiamo l'a con 2 che vale 1 e quindi abbiamo 1 per 2 alla 2, quindi a con 2 per 2 alla 2. Alla che io scriva 1, 0, 1 in base 2, quindi mettiamo un pedice per ricordarci, visto che lavoriamo in basi diverse di cosa stiamo parlando, e che scriva 5 in base 10, sto rappresentando lo stesso numero, cioè questo qui. Se io gioco agli adi è uscito questo qui. Questo è un numero, è una quantità di oggetti che vado a misurare. Questa quantità di oggetti, quindi quello che io a volte chiamo il valore vero del numero, gli oggetti che sto contando, lo posso andare a rappresentare in base 10, che è la base naturale per noi, che abbiamo 5 dita per mano, oppure in base 2, che è la base naturale per il calcolatore, che invece ha gli interruttori che possono essere aperti o chiusi e quindi naturalmente anziché distinguere tra 10 valori possibili, distingue solamente tra due valori possibili e quindi ha due cifre che gli è comodo rappresentare. Quindi in qualunque momento voi vediate scritto un numero in base 2, semplicemente ci facciamo venire in mente la formuletta, la formuletta che abbiamo appena visto, quindi ne prendiamo qui, ho fatto l'esempio di alcuni numeri, essenzialmente numeri da 0 a 15 scritti in base 2. Che ne so, prendiamo questo numero qua, 1101, come lo ragioniamo? Se io avessi 110, prendiamo la lavagna e scriviamo 1101, in base 2 chiaramente, questo 1 lo leggo da destra verso sinistra, quindi questo 1 a destra vale 1 per 2 alla 0, poi vado a sinistra, ho uno 0, 0 per 2 alla 1, poi vado a sinistra, ho un 1, 1 per 2 alla 2, poi vado a sinistra, ho un altro 1 e quindi avrò un 1 per 2 alla 3, che cosa ho qua? 2 alla 3 che fa 8, più 4, poi ci sarebbe 0 per 2 e quindi non c'è, c'è 0, più 1, quindi 8 più 4 12 fa 13, se lo esprimiamo in base 10. E così via per tutti i numeri, in realtà tutta questa manfrina delle potenze, eccetera, si può abbreviare molto perché se ci ricordiamo le potenze di 2, questa potenza vale 1, questa vale 2, questa vale 4 e questa vale 8. E quindi moltiplicando questi numeri, leggendo le potenze nella nostra mente, abbiamo 1 più 4 più 8, che fa 13. Basta andare a identificare quali sono le potenze del 2 che corrispondono agli uni della codifica numerica. Vediamo un altro esempio fatto un po' a caso, prendiamo un numero a casaccio, anche più lungo, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Questo qui è un numero che è espresso su 7 bit. Va bene, quanto vale questo numero che io esprimo in base 2? Allora abbiamo questo 1 che ha peso 1, questo ha peso 2, abbiamo peso il valore della potenza del 2 corrispondente. Poi avremo 4, ma ovviamente non c'è perché è moltiplicato per 0, poi avremo 8, poi la potenza successiva è 16, poi è 32, poi è 64. Quindi questo numero qui in decimale è 64 più 32 più 8 più 2 più 1. Vedete che il 16 e il 4 non li ho messi nella sommatoria perché sono corrispondenti al cifre pari a 0. Quindi quanto fa questo conticino qua? 64 più 32 fa 96, 96 più 8 fa 684, 104 più 2 106 e 1 dovrebbe fare 107, se non ho sbagliato i calcoli in decimale. Quindi vedete che leggere un numero in base 2 non è molto diverso da leggere in base 10. Si usa la stessa regola, solo che ovviamente non siamo abituati e quindi ci dobbiamo fare i conticini a mano ogni volta, mentre invece in base 10 siamo più abituati. C'è una domanda, però non riesco a decodificarla perché mi chiedi perché base 10 del 13 e non 2. Ah ok, sì, scusa, penso di aver capito. Perché tu mi stai chiedendo probabilmente perché qua sotto ho scritto 10. Ecco perché il numero che sto rappresentando ha due nomi. Il numero che sto rappresentando, immaginate 13 pallini, 1, 2, 3, 9, 12 e 1, 13 messo sotto, questo numero qua, lo posso scrivere come 1, 1, 0, 1 se uso la base 2 per rappresentarlo. Lo posso scrivere come 1, 3 se uso la base 10. 1, 3 è la rappresentazione in base 10 dello stesso numero la cui rappresentazione in base 2 è 1, 1, 0, 1. Noi dobbiamo abituarci al fatto che un determinato numero può avere tante rappresentazioni diverse. Non può come tradurre dall'inglese alla francese. Hai due lingue diverse ma il concetto è lo stesso. Ecco quei numeri più facili perché non ci sono ambiguità, il numero è lo stesso. Lo posso esprimere in basi diverse. Quando io faccio queste operazioni qua che abbiamo fatto, queste operazioni qua che abbiamo fatto, per poterle fare, scusate qui mi sta andando a panellino questo, per poter fare queste operazioni ho usato la base 10. Nel momento stesso in cui io ho scritto 8 più 4 sto usando i numeri della base 10, perché sono quelli con cui sono capace di fare i calcoli. Il passo successivo che faremo è capire che il calcolatore, il computer, non ha bisogno di fare nulla di tutto ciò e lui lavora direttamente con numeri scritti in base 2. Perché per lui è il modo naturale di rappresentare i numeri. Per me è la base 10 e quindi quando voglio capire cosa fa il calcolatore devo convertirlo, ma per lui lavora normalmente in base 2. Quindi questa trafila qua di conversione in base 10 non la fa mai, tranne in un caso. Quando io a un certo punto gli dico, senti, voglio stampare un valore print x, x lui ce l'avrà codificato in binario e per potermelo mostrare in un modo che sia a me comprensibile, in modo che io non lo mando a stendere, se me lo stampasse in binario, fa lui la conversione in decimale e per mia comodità me lo stampa in base 10. Questo è l'unico momento in cui il calcolatore ha bisogno di usare la base 10 e quando interdisce con l'utente, quando leggo o stampo i dati. Quindi con questa regoletta qua, diciamo così, di fatto uno dopo un attimo, dopo pochissimo, è facile leggere i numeri più piccoli, ci si impara anche facilmente la sequenza delle potenze di 2 e quindi anche i numeri, come abbiamo visto, anche grandi, candini, insomma con quel 100 o qualcosa che abbiamo appena convertito, si leggono facilmente. La conversione da base 2 a base 10 si effettua semplicemente applicando la formula. Applicando la formula delle potenze, ovvero, cioè assolutamente in modo equivalente, sommando le potenze di 2 che corrispondono alle cifre pari a 1. Fine. Fine della microregola. Giovanni mi chiede qualcosa sui numeri con la virgola? Qui stiamo parlando di numeri per ora interi, interi positivi, che è la base di tutto. Quando abbiamo capito come si codificano bene, si gestiscono i numeri interi positivi, passeremo ai numeri interi relativi, positivi negativi e poi, ma oggi non ce la faremo, passeremo anche ai numeri flotti, i numeri frazionali. Quindi ciò che dico finora, scusate se non l'ho precisato bene, vale per il momento solo sui numeri interi positivi. Poi dovremo estenderli, ma così abbiamo fatto anche in base 10, abbiamo imparato i numeri positivi e poi qualcuno ci ha detto guarda se metti la virgola non è che poi cambino tanto le cose, si estende il modo di lavorare. Ecco qui è un po' più complicato, ma ci arriveremo. Quindi l'operazione da binario a decimale è banale. L'operazione inversa come funziona? Cioè se mi chiedessero invece, prendiamo una pagina nuova e mi dicessero guarda io ho trovato un numero che è 74, che è un numero chiaramente decimale, e mi dicono quanto vale in binario? Quanto vale in base 2? Come faccio a ottenerlo? Allora ci sono vari metodi, ok? Un metodo è un metodo meccanico, diciamo, senza offesa per i meccanici, cioè una procedura, macchinetta, una manovella che gira e a un certo punto ti sputa fuori il numero. L'altro metodo è un metodo invece più intuitivo, ok? Io parto dal metodo intuitivo, perché in realtà poi alla fine sui numeri piccoli è quello più veloce. Abbiamo detto che un numero binario, quando lo leggo in decimale, alla fine ciò che sto facendo è sommare delle potenze di 2. Allora mi chiedo, come posso esprimere il numero 74 attraverso una somma di potenze di 2? Cioè le potenze di 2 sono qua, io devo trovare la somma di questi valori, 1, 2, 4, quali di questi valori devono essere sommati tra di loro affinché il risultato dia 74. E stiamo tranquilli che la soluzione c'è ed è unica, si può fare in un modo solo, ok? Proprio perché sono potenze successive del 2, quindi non si può fare in un modo diverso. La potenza la posso prendere o non prendere? Quelle che prendo corrisponderanno agli 1, quelle che non prendo corrisponderanno agli 0. Allora, dove mi conviene partire? Mi conviene partire dal numero più grosso. Qual è la potenza del 2 più grande che ci sta dentro il 74? 64. Giusto? Quindi 74 la posso scrivere come 64 più 10. Ok. Adesso 64 è già una potenza di 2, mi va bene, nella sommatoria può essere un termine, sarà un 1 per 2 alla sesta, 2 alla e quindi la potenza del 2. Allora mi chiedo di nuovo, qual è la potenza del 2 più grande che sta dentro il 10? 8. E quindi il 10 lo scriverò come 8 più 2. Quindi, semplicemente andando a chiedersi, ripetutamente, dato un numero, qual è la potenza del 2 più grande che ci sta dentro? E qual è il resto, ovviamente, che rimane una volta separata questa potenza del 2? Ottengo una sommatoria di potenza di 2. Cioè questo qui vale 2 alla sesta, più 8 e 2 alla terza, più 2 che 2 alla prima. Questo mi dice che questo numero 74, in base 2 si scriverà così, parto da destra, parto sempre dal peso 0. 2 alla 0 non c'è, 2 alla 1 c'è, 2 alla 2 non c'è, 2 alla 3 c'è, 2 alla 4 non c'è, 2 alla 5 non c'è, 2 alla 6 c'è, eccolo qua. Questo è il valore binario corrispondente al numero decimale 74. Richiede chiaramente un po' di interazione, intuizione, però come vedete si fa relativamente in fretta. Se qualcuno volesse può fare il calcolo inverso, cioè prendi il numero che abbiamo appena scritto sotto in binario e rifare il calcolo della somma delle potenze di 2, ma ovviamente farebbe esattamente i calcoli che abbiamo scritto qua, semplicemente dal basso verso l'alto, e arriverebbe al 74. Quindi questo è il metodo che io ho chiamato intuitivo. Guardo in faccia il numero e mi chiedo, tu, in pancia, quale potenza del 2 hai? E le tiro fuori. Semplicemente tirandole fuori una per una, partendo dalla più grande. C'è una domanda che mi chiede se esistono le versioni più lunghe o più brevi delle variabili che abbiano più o meno bit. In Python, in realtà ve lo racconto, il Python per gli interi non ha nessun limite di capienza, quindi gli interi hanno dimensione potenzialmente infinita, quindi non ci dobbiamo porre problemi della dimensione delle variabili intere se le programmiamo in Python. Però in realtà è un problema che affronteremo quando vedremo l'overflow, quindi vedremo la rimetica finita. Fino ad ora stiamo giocando come in base 10. Non è che ci hanno insegnato dicendo, guarda, tu in base 10 puoi contare al massimo con 5 cifre, e quindi contare fino a 999. No, ci hanno detto, i numeri sono questi, sono infiniti. Noi facciamo finta che siano infiniti. Poi ci complichiamo la vita e vediamo cosa succede se invece non fosse un infinito, perché la macchina non avrà una capacità di memoria infinita. Quindi lo vediamo come passo successivo. Allora, questo è il primo metodo, quindi da decimale, abbiamo detto, da decimale a binario metodo intuitivo. Ecco, invece qualcuno vuole un metodo un pochino più sistematico, prendiamo il sotto 74 e applichiamo il metodo delle divisioni successive. Quindi cosa si fa? Si prende il numero 74, il numero da convertire, e si applica una serie di divisioni per 2 a questo numero. E ogni volta ci si scrive il quoziente e il resto. Allora, cosa succede? Io faccio 74. 74 diviso 2. Faccio sempre la stessa operazione, diviso 2. 74 diviso 2 quanto fa? 70 diviso 2 fa 35, più 4 diviso 2 fa 2, 37. Fa 37. E questa divisione non ha dato resto, resto 0. Non ha dato resto perché 74 era un numero pari. Adesso 37, ripeto, 37 diviso 2. Quanto fa? Fa, dunque, 37 sarebbe 36, che fa 18 col resto di 1. 37 diviso 2 farebbe 18,5. In campo intero fa 18 col resto di 1. 18. 18 diviso 2 quanto fa? Fa 9. Senza resto. 9 diviso 2 quanto fa? 4 col resto di 1. 4 diviso 2 fa 2 col resto di 0. 2 diviso 2 fa 1 col resto di 0. 1 diviso 2 fa 0 col resto di 1. E qui, chiaramente, mi fermo perché ho raggiunto 0. Adesso, questa regola cosa mi dice? Io ho ottenuto la sequenza dei resti, delle divisioni successive del numero, sempre ogni volta diviso 2. Questa è stata l'unica operazione che ho fatto, ripetutamente. Adesso, se io prendo questa sequenza dei resti e la scrivo, partendo dal fondo e andando verso l'alto, ottengo il numero. Quindi io posso scrivere 1, 0, 0. Vedete, parto da sotto e vado da sopra. 1, 0, 0. Poi c'è un 1. Poi 0, 1, 0. 0, 1, 0. Quindi i resti che vanno dal basso verso l'alto, verso l'alto, li scrivo da sinistra verso destra. E questo è il numero espresso in base 2, che ha lo stesso valore del numero decimale precedente. Andiamo a confrontarlo, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nella pagina precedente abbiamo scritto 1, 0, 0, 1, 0, 0. Quindi i conti per fortuna tornano. Quindi abbiamo già cominciato, quindi siamo sempre nella conversione del decimale a binario nell'ipotesi di numeri interi positivi. Quindi passare dalla rappresentazione decimale alla rappresentazione binaria è una cosa molto semplice. Si può fare in modo più algoritmico cioè seguendo una procedura o in modo un pochino più intuitivo andando alla caccia delle potenze di 2, ma alla fine il risultato lo ottengo. Il percorso da binario decimale è ancora più semplice perché, come dicevamo, è semplicemente l'applicazione di una formuletta dove, ecco, come esempio avevamo su questo numero qua, che è una formuletta semplicemente di lettura del numero moltiplicando per le potenze. Allora, c'è una domanda che mi chiede non ho capito bene com'è che metti il resto, no? Di fatto, lo interpreto così questa domanda. La cosa è molto semplice. Io faccio 74 diviso 2, no? E mi ha dato 37. E mi chiedo la divisione di 74 diviso 2. Quanto fa? Fa 37 senza resto. Viceversa, 37 diviso 2 fa, abbiamo detto, 18 col resto di 1. Giusto? Cioè ogni volta, poi è facile, ogni volta che il numero è dispari è la divisione da un resto perché farebbe 18,5. Ogni volta che il numero è pari invece non c'è nessun resto nella divisione per 2. Quindi vedete che il 74 era pari e quindi mi ha dato il resto 0. 18 era pari, mi ha dato il resto 0. 4 e 2 erano pari, mi hanno dato il resto 0. Viceversa, 37 era dispari, mi ha dato il resto 1. 9 era dispari, mi ha dato il resto 1. 1 era dispari, mi ha dato il resto 1. Quindi a fianco del numero scrivo 0 se il numero è pari o 1 se il numero è dispari. E sotto il numero scrivo ogni volta la sua metà, chiaramente tralasciando le parti frazionali. Ok? Quindi bisogna ricordarsi, no? Che, appunto, dividendo per 2 il resto è banale. Se è dispari il resto fa 1, se è pari il resto fa 0. Abbiamo solamente queste due cifre, 0 e 1, quindi l'aritmetica è molto più semplice perché non abbiamo... Ops, ho perso la matita. Scusate, ho perso la pennina. Non abbiamo altri numeri da dover gestire. Ok? Ok. Quindi adesso sappiamo rappresentare i numeri e ci possiamo chiedere quali numeri sappiamo scrivere. Quindi, ad esempio, se io ho un bit solo, i numeri che posso rappresentare sono solamente 0 e 1. Se ho due bit potrò rappresentare quattro valori diversi, no? Se ho due bit ho 00 che vale 0, 01 che vale 1, 10 che vale 2 e 11 che vale 3. Se in decimale ci chiedono con tre cifre qual numero posso rappresentare, la risposta sarà fino a 999. In binario, se mi chiedono che numero posso rappresentare con 6 bit, dirò un numero che va fino a 1, 1, 1, 1, 1, 1, cioè volte 1. Avrò il numero più grande possibile da 6 bit. Se vogliamo generalizzare questo, quanto vale questo numero? Quanto vale questo numero massimo? Allora, se io ho un numero x espresso su un certo numero di bit, n bit, adesso qua stiamo aggiungendo un vincolo, stiamo dicendo guarda che io non ho tanti bit quanti mi servono, ok? Ma avrò solamente n bit, perché poi dentro il calcolatore magari le parole di memoria hanno un certo numero fisso di bit a disposizione. E quindi posso rappresentare solamente i numeri che ci stanno all'interno di n bit, che non superano n bit. Allora, quali sono e quanti sono questi numeri? Sono tutti numeri che vanno da il numero più piccolo che posso rappresentare, è scritto qua il numero più piccolo che posso rappresentare, sono tutti zeri. Ops, perché non me lo fai fare? Sono tutti zeri. Niente, powerpoint e me, non siamo amici oggi. Sono tutti zeri, perché il numero più piccolo che posso avere è quello in cui non sommo, visto che il numero è una somma di potenze di 2 e le potenze di 2 sono tutte positive, non sumarne nessuna mi dà il numero più piccolo possibile. Oppure le sommo tutte, quindi avete un numero di n bit tutti pari a 1, mi darà il valore massimo possibile perché ci metto dentro tutte le potenze di 2 che posso metterci su n bit. Il numero più piccolo che posso rappresentare è 0, chiaramente, la somma ai tanti zeri fa sempre 0. Il numero più grande che posso rappresentare è dato da questa formula qua, 2 alla n-1. Cioè, se ho 6 bit, posso rappresentare i numeri da 0 fino a 63. 2 alla 6-1. Se ho 8 bit, posso rappresentare i numeri che vanno da 0 a 2 alla 8-1, cioè 255. Perché 2 alla 8 fa 256. la somma di tanti potenze di 2 mi dà esattamente la potenza di 2 successiva diminuita di 1. Se la volete vedere aritmeticamente, se qualcuno di voi ha nostalgia di analisi, vede che la somma di 2 alla i per i che va da 0 a n-1 fa proprio 2 alla n-1. È la somma di una successione geometrica questa, 2 alla n-1. Ok? ma io lo vedo, se vogliamo, in un modo, quasi per una piccola dimostrazione per assurdo, 256 sarebbe 2 alla 8, ma 256 richiede 9 bit. Perché i bit vanno da 2 alla 0 a 2 alla 8. Quindi, da 0 a 8 ci sono 9 valori. Ricordiamoci sempre che noi contiamo a partire da 0. Ok? Quindi, se ho un numero che dentro di sé, in pancia, ha la potenza 2 alla 8, vuol dire che quel numero deve avere almeno 9 bit. Se mi sto chiedendo qual è il numero più grande che posso ottenere con 8 bit, sarà il numero più grande che posso scrivere che non arrivi che è 256. Cioè, 256-1. Ok? All'inizio sembrano un po' ragionamenti strambi, ma lavorando un po' con i numeri binari, di fatto, diventano abbastanza intuitivi. Come dici, qual è il più grande numero che posso scrivere in decimale con 3 cifre? 999. Perché 999? Perché 1000 ha 4 cifre. È il più piccolo numero che ha realmente bisogno di 4 cifre. Ed è 2 alla quarta. Ok? Con 3 cifre avrò 2 alla quarta. Scusate, 2 alla terza. 10 e 2 alla terza. 1000 e 2 alla terza. È a 4 cifre. Il numero più grande che posso scrivere con 3 cifre è 2 alla terza. Guardate che è il 3. 3 cifre, 2 alla terza. Meno 1. Cioè, 1000 e meno quello che abbiamo in base 10. Ok? Quindi, quello che ci ricordiamo è che i numeri binari vanno su n bit. Se ho solo n bit a disposizione, i valori dei numeri binari vanno tra 0 e 2 alla n meno 1. Ok? In particolare, i valori di n più utilizzati sono n uguale 8 oppure i multipli di 8, 16, 32, 64, a volte 128, perché corrispondono alle dimensioni delle celle di memoria interne al calcolatore. Lo vedremo meglio quando vedremo un pochino l'architettura del calcolatore. Cioè, non esiste nessun computer che abbia le celle di memoria di 7 bit o di 13 bit. Sono numeri che nel mondo binario puzzano. Sono numeri dispari, sono numeri non divisibili per 2, non sono potenze di 2, eccetera. Quasi sempre, si usano anche per la dimensione delle parole, delle dimensioni che siano a loro volta potenze di 2. Tutto questo mondo qua del binario ragiona sulle potenze di 2, così come la nostra armetica ragiona preferibilmente sulle potenze del 10. Qui c'è poi semplicemente una notazione di terminologia che dice che dato un numero binario che ha scritto, quello più a destra viene chiamato a volte LSB, non confondendo con l'LSD, least significant bit, cioè bit meno significativo. È un modo per dire le unità. Mentre invece quello più a sinistra è il bit più significativo, cioè quello associato ha la potenza del 2 più grande. Non c'è nulla da capire qua, semplicemente è una questione di terminologia. Quando vediamo scritto per brevità LSB oppure MSB sappiamo che cosa rappresentare. Ok? Che cosa sta significando? La domanda che mi chiede è se un bit solo è un MSB o un MSB quando ho un bit solo non ho mai sentito porsi il problema, nel senso che è un bit e lui, fine. Il problema ce l'ho per distinguere il primo e l'ultimo quando ne ho più di uno, altrimenti non è una definizione che si usa nei casi, diciamo così, degeneri di un bit solo. Qui ci sono alcuni esempi con valori di numero di bit pari a 4 che si usa poco, ma magari nei calcoli a volte lo usiamo per semplicità, per poterlo fare a mano, 8, 16, 32 e mi dicono essenzialmente qual è il numero massimo. Cioè questo massimo in base a 10 è poi 2 all'n meno 1, la stessa formuletta, quindi questa qua sarebbe il valore di n e l'ultima colonna mi dà 2 all'n meno 1. E questo mi dice che nella maggior parte, nei calcolatori cosiddetti a 32 bit, i numeri interi che si rappresentano vanno circa fino a 4 miliardi, che è la dimensione di un int in molti linguaggi di programmazione. In python non c'è questo problema, perché dentro lui usa tanti bit quanti sono necessari per rappresentare il numero. Ovviamente questo cresce esponenzialmente, quindi più è ampia la parola, più è ampio esponenzialmente 2 all'n volte il range dei numeri che riesco a rappresentare. Una volta che so rappresentare i numeri, che cosa faccio? Ricordiamoci che abbiamo fatto l'elementare, quando abbiamo imparato i numeri, poi abbiamo imparato le quattro operazioni. Le operazioni, addizione, sottrazione, ci fermeremo questo, non parleremo di moltiplicazione e divisione, si svolgono nello stesso modo in cui si rivolgevano in base 10, tutto sommato. Ma perché? Perché la rappresentazione del numero è la stessa, cambia solo B, cambia solo i valori di B. Quindi con qualche piccolo aggiustamento anche in binario 0 più 0 fa 0, e anche in binario 0 più 1 fa 1, e anche in binario 1 più 0 fa 1. Il problema che ho è quando ho 1 più 1, che farebbe 2, ma 2 non si può rappresentare, 2 non si può rappresentare con un'unica cifra e quindi avrò un riporto, nell'addizione avrò un riporto da portare al numero successivo. Un po' come quando faccio in decimale 3 più 5 che fa 8, va benissimo, ma se dovessi fare 5 più 5 quanto fa? Fa 0 con il riporto di 1. E il riporto cosa vuol dire? Il riporto vuol dire che devo sommare un'unità nella colonna successiva, quindi nella cifra il cui peso è maggiore del peso attuale. Un 10 che non ci sta nelle centinaia diventa un 1 nelle migliaia, questo è quello che abbiamo imparato elementare, e qui la stessa cosa in binario. Proviamo a fare un'operazione qualsiasi, prima ragionareci in modo intuitivamente, poi la vediamo la regoletta, ma è facile. Prendiamo due numeri qualsiasi, provo a scriverli su 5 bit, tanto per avere un numero, quindi magari è 1, no, fatemi scrivere in blu perché il rosso spaventa, 1, 0, 1, 1, 0, e poi lo sommo più, un altro numero sempre su 5 bit, 0, 1, 0, 1, 0. Ok? Ho preso i numeri praticamente a caso, non so cosa vogliono dire. Anche il secondo numero ci ho messo lo 0 davanti anche se non serve, no? Come quando si scrive un numero su tre cifre, questo numero è 70, allora scrivi comunque 0, 7, 0 perché ti hanno chiesto tre cifre. Ho messo lo 0 davanti semplicemente per averli incolonnati, scrivendoli a mano mi è più facile incolonnarli. Ok? Quindi ho due numeri su 5 bit, e mi hanno chiesto fai la somma. Vabbè, io faccio la somma con le regole dell'aritmetica, 0 più 0 fa 0. 1 più 1 farebbe 2, ma 2 non ci sta. Allora 2 sarebbe, lo scrivo come 0 col riporto di 1. Cioè sarebbe 2. 2 su questa colonna che vale 2 alla 1 come peso. Non posso scrivere 2, allora scriverò 0 e mi ricordo di sommare un 1 alla colonna fianco. Quindi sommo un riporto che esce dalla colonna 1, quella di peso 2 alla 1, ed entra nella colonna 2, quella di peso 2 alla 2. Ricordiamoci che le colonne, i bit partono sempre da 0, quindi questa è la colonna 0, questa è la colonna 1, e questa è la colonna 2, cioè 2 alla seconda, che ha peso 2 alla seconda. Quindi ciò che ho fatto è semplicemente un'equivalenza che dico, il risultato qua avrei dovuto scrivere 2 per 2 alla prima. Cioè nella colonna 2 alla prima la somma varrebbe 2, ma non lo posso scrivere. Cosa ho scritto? Ho messo un 1 sopra per dire che devo sommare un 1 nella colonna 2 alla seconda. Quindi ciò che non mi sta in una colonna lo porto nella colonna a fianco, ma con una colonna a fianco vale il doppio, quindi un 2 mi diventa 1. Così come quando lavoriamo in base 10, il 10 diventa 1, quando lo porto come riporto. Questi 2 per 2 alla prima e 1 per 2 alla seconda sono esattamente lo stesso numero, sempre 2 fa, anzi no, sempre 4 fa, 2 per 2 o 1 per 4. A questo punto ho risolto il problema della colonna numero 2 alla 1, attacco la colonna 2 alla 2, dove dovrò fare 1 più 0 più l'1 che mi è arrivato di riporto, non è che posso far finta di nulla, mi hanno detto devi sommare questo e io lo devo fare. 1 più 1 più 0 fa di nuovo 2, quindi di nuovo 0 col riporto di 1. 1 più 1 più 0 cosa fa? Di nuovo fa 1 più 1, in questo caso per un numero un po' sfigato perché è sempre uguale, fa 0 col riporto di 1. Qui avrò 1 più 1 più 0 che fa di nuovo 0 col riporto di 1 e questo riporto chiaramente si sommerà uno 0 sottinteso e mi dà un 1. Quindi cosa è venuto fuori? È venuto fuori che io ho sommato due numeri di 5 bit ciascuno in base a 2, ho applicato delle regolette normali dell'aritmetica con l'attenzione di applicare un riporto ogni volta che ottengo 2 e ho ottenuto un numero che in questo caso avrà 6 bit anziché 5. Ma questo è un po' normale, se io faccio 7 più 8 fa 15 e quindi sommo due numeri e una cifra e ottengo un risultato su due cifre. Me lo posso aspettare se i numeri sono grandi. Ecco, se volessimo verificare che abbiamo fatto le cose giuste, non serve ma proviamo a verificarlo. Questo numero quanto vale è quello di sopra? Vale dunque, ragione sulla potenza del 2, quindi 1, 2, 4, 8, 16, quindi 16 più 4 più 2, 16 più 4 più 2 fa 22. Quello sotto è 1, 2, 4, 8, 8 più 2 uguale 10. La somma in decimale farebbe 32. Questo numero sotto, guarda caso, è proprio 32, perché è 1, 2, 4, 8, 16, 32, 2 alla quinta. Questo è 2 alla quinta. Il sesto bit, 0, 2, 3, 4, 5 è il sesto, è il 2 alla quinta, partendo sempre da 0. E quindi per fortuna i conti tornano essenzialmente. Ok, quindi quando facciamo queste operazioni di addizione ci possono solo capitare pochi casi, io posso fare, abbiamo detto 0 più 0 che fa 0, 0 più 1 che fa 1, 1 più 0 che fa 1, oppure posso avere il caso sfortunato 1 più 1 che fa 0 col riporto di 1 alla cifra successiva. Questi sono i quattro casi facili in cui non ho da sommare un riporto. Se invece dovessi sommare un riporto cosa mi capita? Mi capiterebbe il caso, lo scrivo qua sotto, 0 più 0 più un riporto che mi è arrivato, e cosa fa? Fa 1. Scusate, un po' sbilenco questo 1, provo a scriverlo meglio. Ok? Poi posso avere 0 più 1, ma ho anche un riporto che mi è arrivato da sommare. Allora in questo caso farà 0 più 1, 1 più 1, 2, quello che abbiamo avuto nella nostra addizione e quindi metterò uno 0 con un riporto di 1 alla cifra successiva. Quindi mi arriva un riporto da sommare, questo riporto fa sì che mi trabocca il numero nella mia colonna e vabbè, a mia volta manderò un riporto fuori. La stessa cosa se mi arriva un 1, 0 con un riporto in ingresso, farà 2 e quindi 0 con il riporto di 1 in uscita. E poi il quarto caso, quello un pochino più sfortunato, in cui già devo fare 1 per 1, 1 più 1, e già non ci sto di mio, ma poi mi hanno detto che devo sommare anche un riporto di 1. E allora questo quanto fa? 1 più 1 più 1 farebbe 3, e allora di questo 3 cosa faccio? 1 me lo tengo e 2 li porto di là. Cioè un 2 lo porto di là come riporto che vale 1. Nella colonna successiva il 2 che ho tolto di qua varrà 1. E l'1 mi rimane. Quindi 3 di fatto si scrive 1 con riporto di 1. Quindi quando la somma vale 2, scrivo 0 e riporto 1. Quando la somma vale 3, scrivo 1 e riporto 1. Ok? Questa è l'unica, diciamo così, che non è neanche una regola, diciamo così. È già la regola che usiamo per fare somme, semplicemente in decimale il riporto vale 10. In binario, che sorpresa, il riporto vale 2. Ok? Quindi questo ci permette di fare tutte le operazioni che vogliamo di addizione applicando semplicemente queste regolette, che sono la rimetica di base, facendo attenzione che il riporto scatta quando la singola cifra vale 1 e non quando la singola cifra vale 10 essenzialmente. E la stessa cosa si può fare con la sottrazione. La sottrazione funziona nello stesso modo della somma, semplicemente funziona col prestito anziché col riporto. Proviamo a fare la sottrazione tra i due numeri che abbiamo visto prima. Ok? Che ormai sappiamo già tutto di questi due numeri e quindi li usiamo. 1 0 1 1 0 e questa volta però faccio la sottrazione. Quindi apro una nuova pagina in cui faccio 1, no, fatemi fare più spazio, 1 0 1 e poi com'era? 1 0 meno l'altro numero che è 0 1 0 1 0. Ok? 0 1 0 1 0. Ok? Uguale. Sottrazione. Sottrazione. 0 meno 0. 0. 1 meno 1. 0. Non c'è problema. 1 meno 0. 1. 0 meno 1. E qua c'è una grana, no? Perché 0 meno 1. E 0 meno 1 non si può fare. Per poterlo fare devo prendere un prestito. Che cos'è un prestito in binario? Un prestito significa toglierne 1 dalla colonna sinistra e aggiungerne 2 nella colonna attuale. No, ricordate, in decimale quando prendo un prestito prendo 10 e sottraggo 1 dalla colonna a fianco e questo 1 che ho tolto vale 10 nella mia colonna. Qui vale 2. Quindi prendere un prestito significa assumere un 2 nella mia colonna e togliere un 1 nella colonna a fianco. Poi ci penserà la colonna dopo per capire se quell'1 ce l'ha o non ce l'ha da darmi. Io per ora lo prendo. E quindi avrò 2. Questa colonna qua che calcolo devo fare? 0 meno 1 più 2. Cioè 2 più 0 che fa 2 meno 1, 1. Avendo preso il prestito adesso riesco ovviamente a fare l'operazione. 0 o meno 1 non lo sapevo fare ma 2 meno 1 sì perché ho un 2 in più. A questo punto passo la colonna a fianco e che operazione devo fare? Devo fare 1 meno 0 ma poi devo ricordarmi di contabilizzare il meno 1. Quindi farò 1 meno 0 meno 1 che culo si dice in tedesco mi viene esattamente 0. Quindi non devo prendere a mia volta nessun altro riporto potrebbe succedere. Qui avrei dei problemi perché non ho più una colonna a cui chiedere il riporto. Quindi sarebbe un problema. Ma per fortuna non è successo. Quindi noi ci ricordiamo che questi due numeri qui valevano 22 e 10 in decimale. Abbiamo fatto il calcolo che questo vale 22, questo valeva 10. Andiamo un po' vedere quanto vale questo numero sotto. Il risultato è 1, 2, 4, 8. 4 più 8, 4 più 8 fa 12. 22 meno 10 anche in decimale fortunatamente fa 12. Quindi anche qua le regole sono le stesse. È un pochino più complicato prendere il riporto perché devo ricordarmi di togliere 1 e sommare 2 ma è la stessa cosa. Io per abitudine mi scrivo proprio a fianco meno 1, meno 1, più 2 così è più facile. È più facile tenere conto dei casi possibili. L'ultima operazione è 1, meno 1, uguale 0. Mi dite voi nella chat. No, attenzione. L'ultima colonna io non ho fatto 1, meno 1, ma ho fatto 1, meno 1, meno 1, meno 1, meno 1. Ah, sulle slide. Adesso guardiamo la slide. Ok. Allora, sulle slide c'era questo esempio qua. Ok, vediamo se sia giusto. Proviamo a seguire i calcoli che hanno fatto qui. Qui hanno fatto, dunque, 1-0 che fa 1. 0-1 che fa meno 1 più 2. Ok? Come usando il nostro O. Qui hanno usato una convenzione diversa. Qui hanno messo un 1 per dire ho preso un prestito. Però in realtà questo 1 vale negativo. Io infatti preferisco, soprattutto nelle prime volte, mettere un meno 1 qua davanti. Per fare questo le ho fatto 2-1. Quindi qui avrò fatto 0-1, ancora meno 1. Qui infatti manca un pezzo, avete ragione, manca un pezzo sulla slide. Quindi togliamo questo. Ho preso un prestito e qui in questa colonna cosa dovrei fare? 0-1-1, che è il caso più sfortunato che posso avere, perché ho 0 solo da prendere e 2 da togliere. Quindi ovviamente a mia volta devo prendere un prestito. Quindi rifaccio un prestito sulla colonna successiva. Prestito sempre più 2 io e meno 1 a fianco. E a questo punto avrò 2. I numeri positivi sono il più 2 e lo 0 che c'è qui. E i negativi sono meno 1-1. E il bilancio totale più 2-1-1 fa 0. Poi nella colonna a fianco a sinistra dovrò fare 1-0-1 che mi dà 0. Quindi il risultato è giusto. Semplicemente chi ha preparato questa slide si è dimenticato di mettere questo riporto qua, che invece è necessario per fare il calcolo. Quindi devo ricordarmi di correggere la slide. Fin qua tutto bene. Alla fine cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato come si legge un numero binario, come si converte da decimale a binario e da binario a decimale, come si fa la somma e come si fa la sottrazione tra numeri binari. Da notare che quando noi facciamo queste operazioni tre numeri binari non abbiamo bisogno di sapere quanto valgono in decimale. Cioè questa situazione qua, qui c'è scritto, se uno ha un po' d'occhio, 9-6 uguale 3. Ok? Dopo un po' ci avremo un po' d'occhio e li riconosciamo al volo questi numeri come se fossero i nostri numeri. 9-6 fa 3. Buono, giusto, lo riconosco subito. Perché io penso in decimale. Il calcolatore, ricordiamoci che farà i calcoli sempre direttamente in binario, quindi il calcolatore non ha modo, non ha proprio la possibilità di fare il calcolo corrispondente in decimale. Siamo noi che lo facciamo come prova del 9, diciamo così, per verificare se il risultato ci quadra anche nella nostra aritmetica. Quindi tutte le operazioni che si fanno in binario si possono fare senza mai uscire dal binario stesso. Tutte le operazioni che si fanno e che si riescono a fare. Perché qui arriva la grana che ci dice guarda che non è detto che tutte le operazioni che tu vuoi fare si possono fare. Soprattutto se hai un numero fisso di bit. Quindi se io ho n uguale 4 bit e mi chiedi di fare 10 più 10, 10 più 10 farebbe 20, ma su 4 bit il numero massimo che si può rappresentare è 2 alla quarta meno 1, quindi 15. E qualunque operazione che dia come risultato 20 non si può fare. Semplicemente perché il 20 non è rappresentabile con 4 bit. È come se uno mi dicesse fammi 80 più 30 ma rappresentare il risultato solo con due cifre. 80 più 30 fa 110, con due cifre non posso rappresentartelo. Noi non siamo abituati a porci questo limite ma purtroppo il calcolatore ha lo spazio fisso per cui rappresentare i numeri. E quindi qualunque operazione che vada dal di fuori da questo scatolo, da questo spazio fisso, mi darà un risultato sbagliato. In questo caso si chiama, si usa un termine un po' strano che è overflow. Overflow in italiano si traduce come tracimazione, anche se non si usa in senso informatico. Avete presente la tracimazione quando un fiume esce dagli argini, o quando versi troppa acqua in un bicchiere ed esce tracima e va finito sulla tovaglia, sul pavimento, per la gioia della famiglia. Questo è lo stesso concetto, cerco di mettere in un contenitore dei numeri più grandi di quelli che lui è in grado di contenere, più grandi o più piccoli come vedremo. Quindi ad esempio se io sto facendo la somma di numeri binari positivi e mi dicono guarda il tuo calcolatore ha un numero fisso di bit, n uguale a 4. Quindi ho due numeri, due operandi che sono su 4 bit, ma quando faccio l'operazione il risultato mi richiederebbe un bit in più. L'abbiamo fatto prima, abbiamo sommato il numero 5 bit e è uscito un risultato da 6. Aritmeticamente è possibile, ma informaticamente se ho questo n uguale a 4 e questo quinto bit non ho nessun luogo in cui metterlo. Allora cosa succede? Succede che questo bit in più viene perso, non c'è un posto in cui metterlo e quindi non viene messo da nessuna parte. Quindi quello che direbbe un ipotetico calcolatore che lavorasse su 4 bit mi direbbe guarda caro mio 0101 più 1110 fa 0011. Quindi lui mi dice tranquillamente senza vergogna che 5 più questo è 7 per 2 14 fa 3, che non è molto aritmeticamente corretto se non l'aritmetica modulo 16 che questo è quello che stiamo facendo, ma lasciamo perdere il modulo 16. Abbiamo un'operazione svolta correttamente, se andate a controllare questa sommina qua è giusta, ma il cui risultato però è sbagliato. È sbagliato perché il risultato vero, tra virgolette, cioè il risultato che avrei calcolato in un'aritmetica infinita non ci sta nell'aritmetica finita che ho a disposizione. Allora questa condizione qua la chiamo overflow. Overflow è un concetto astratto, un concetto generale. Dice tutte le volte che il risultato di un'operazione, qualunque essa sia questa operazione, non si può rappresentare, lo chiamo nella codifica che ho sotto mano, nella codifica a cui sono vincolato, ecco quando il risultato dell'operazione non si può rappresentare, nella codifica in cui sono vincolato chiamo overflow. Poi ho detto due parole nella definizione di overflow, ho detto operazione, ho detto codifica. Quindi a seconda dell'operazione che faccio e a seconda della codifica che uso per i numeri, il modo in cui mi accorgo dell'overflow sarà diverso. In questo caso sto facendo una somma, operazione somma, di numeri codificati in binario, adesso cominciamo a chiamarlo binario puro perché tra poco impareremo altri tipi di binario, altri codifichi un pochino più complicate, in questo caso se io faccio una somma tra numeri codificati in binario semplice o binario puro, l'overflow si verifica se e solo se nel fare la somma ho un riporto in uscita dall'MSB. Quindi l'MSB mi dà riporto, allora il risultato è sbagliato e lo chiamo dicendo overflow. Questa regoletta, l'MSB mi dà riporto, vale solo nel caso di una somma per il numero in binario puro, in altri casi valgono altre regole. Ad esempio, ci siamo andati vicini facendo la sottrazione, quando facendo la sottrazione io ho detto, per fortuna qui 1-0-1 mi fa 0, altrimenti avrei avuto un problema, nel senso che avrei dovuto prendere un prestito da un bit che non avevo. Facciamo un esempio micro, micro, micro qua. Se io faccio 0, scusate riprendo il blu, se faccio 0-1-1-0 mi fa 1-0 che da 1 non è un problema. 0-1 non si può fare, allora prendo un prestito da 2-1 e 2-1 non si potrebbe fare. Però questo prestito qui, meno 1, non so a chi prenderlo. Quindi ho un prestito che esce dall'MSB, dal bit più significativo. In questo caso sto lavorando con 2 bit per fare una cosa micro, micro, micro. Ma cosa ho fatto? Ho provato a fare 1-2 e lui mi dice che 1-2 fa 3, che chiaramente non è vero. Perché mi ha dato overflow? Ma perché il risultato di questa sottrazione sarebbe negativo, nell'aritmetica vera è un numero negativo e la mia codifica però è solo capace di rappresentare numeri positivi e quindi per forza il risultato che esce fuori è sballato. Ok? Mentre invece, quindi quando faccio la somma il rischio è che il valore della somma non ci stia nei 2ln-1 valori che ho a disposizione avendo n bit. Quando faccio la sottrazione il problema è che il risultato potrebbe venire negativo e i numeri negativi nella codifica in binario semplice non si possono rappresentare. Me ne accorgo come? Nel caso della somma, perché c'è un riporto in uscita dal bit più significativo, msb sta per bit più significativo, most significant bit, c'era una slide prima che lo definiva. Mentre invece, nella sottrazione, nella sottrazione abbiamo un prestito in uscita dal bit più significativo. Questi sono indicativi di una condizione di overflow quando si opera con numeri binari semplici. Ok? Attenzione che l'overflow può solo capitare durante un'operazione. Cioè, se io ti do un numero a caso, quel numero lì non è mai overflow, l'ho scritto, c'è. Quindi lo sto rappresentando. Se però faccio delle operazioni su questo numero e queste operazioni lo fanno uscire dall'intervallo di rappresentazione, chiamo overflow, perché il risultato chiaramente non sarà rappresentabile in quel limite. Quindi, questo concetto di overflow capita solamente se ho una codifica limitata, tot bit a disposizione, e con certi vincoli, ad esempio il binario puro non è capace di rappresentare numeri negativi, e sto facendo delle operazioni aritmetiche. Questo non è solo un problema teorico, ma succede per davvero. Non in Python, in questo caso, ma ad esempio in C o in molti altri linguaggi di programmazione, normalmente un numero intero è codificato su 32 bit. Quindi questo vuol dire che ho un valore massimo per i numeri interi. e se io ho raggiunto il valore massimo e provo a sommare 1, il risultato, anziché essere 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 8 in fondo, cioè al 7 si somma 1, diventa 8, il risultato fa 0. Perché? Perché ci sarebbe un riporto in più e tutti gli uni vanno a 0 e quindi il risultato aritmetico è sbagliato. Senza che io me ne accorga. Perché il calcolatore, poverino, quando ha buttato via, eliminato questo riporto, non se ne è accorto. Perché quel riporto per lui non esiste. È su un bit che non c'è, non c'è il quinto bit. Non può averlo, quindi non può accorgersi del problema. Per lui il risultato buono è questo. 0, 0, 1, 1. È il meglio che sa fare. Sarò io che dovrò evitare di porre il calcolatore in queste condizioni in cui lui mi dà un risultato errato. A meno che lui non faccia i controlli ulteriori, questo overflow accade senza che lui se ne accorga. Lui calcolatore. E quindi anche questa operazione qui non dà errore. Non è che blocca il programma da un'eccezione, da un errore. Semplicemente il programma va avanti con un valore totalmente sballato. 1-2 è uguale a 3 e lui va avanti con il numero 3, non col meno 1 che sarebbe il vero valore. Queste cose succedono nella maggior parte dei linguaggi. Nel caso di Python, invece, chi ha implementato il linguaggio ha fatto una scelta diversa, quella di complicare l'interprete del linguaggio per prevenire questi problemi a monte. Quindi Python, quando rappresenta gli interi, attenzione, vale solo per gli int, solo per gli int, quando per i flonti invece non vale, solo per gli int, Python usa tanti bit quanti sono necessari per rappresentare il numero. Quindi se tu avessi anche un numero enormissimo, che ha bisogno di 200 bit per essere rappresentato, tranquillo, lui te lo rappresenta. Quindi l'overflow tra numeri interi in Python non si verifica mai. Questo ovviamente complica di sicuro chi ha implementato il linguaggio, rallenta anche certe operazioni aritmetiche che ovviamente dovranno fare i conti e vedere ma guarda io ho 32 bit, il risultato mi basta per 32 bit e non devo usare 64, e se non mi bastano 64 non devo usare 128, e quindi avrà una complicazione interna il Python a fare i calcoli perché deve fare calcoli con aritmetica di numeri di dimensioni variabili. È un prezzo da pagare per non avere il problema dell'overflow. È un programma un pochino più lento da fare i calcoli, ma non mi capita mai un risultato errato, sballato per coppa dell'overflow nel caso di Python. E quindi per i numeri interi questo lo possiamo, non dico ignorare, ma riconoscere che è un problema, ma che l'interprete Python lo annulla in qualche modo, lo nasconde. Ok, noi lavoriamo in base 2, però per comodità molto spesso si rappresentano i numeri binari anche in una base diversa dalla base 2, in particolare in base 8 o più frequentemente in base 16. Cosa vuol dire? Ma allora, non è che il calcolatore fa i calcoli in base 16, no? Però se io ti devo dire un numero, ti devo dettare un numero in base 2 e ti devo dire 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, è facile perdere il filo, è facile perdere il conto. Quindi per ragioni di sintesi, semplicemente, soprattutto quando si scrivono i numeri, eccetera, si usa un trucco, quello di rappresentare quel numero non in base 2, ma in base 16. Perché 16? Perché 16 è una potenza di 2, quindi c'è una conversione facilissima. Questo numero che c'è scritto qua, abbiamo le potenze che sono 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, 2 alla 4. 2 alla 4, guarda caso, è 16. Poi abbiamo 2 alla 5, 2 alla 6, 2 alla 7. Però queste potenze qui si possono scrivere come 4 più 0, 4 più 1, 4 più 2, 4 più 3. Cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che se io prendo di un numero binario lo spezzo dopo 4 bit e guardo i 4 bit successivi, tutti questi 4 bit successivi avranno un 2 alla 4 dentro, cioè 16. E se ci fossero ancora altri 4 bit successivi, dentro avranno un 2 alla 8, cioè 16 alla seconda. E se ci fossero altri 4 bit successivi avrebbero 2 alla 12, cioè 16 al cubo. E così via. Cioè, matematicamente è come se noi potessimo raccogliere ogni 4 bit, possiamo raccogliere un 16, raccogliere un 16 alla seconda, raccogliere un 16 al cubo e così via. Ma raccogliere 16 alla 0, 16 alla 1, 16 alla 2, 16 alla 3, altro non è che scrivere il numero in base a 16. È la stessa cosa che scrivere la formuletta, vi ricordate, somma di a con i per b elevato i con b che vale le 16. Quindi questo vuol dire che questo numero, verifichiamolo e poi cerchiamo di convincereci con l'esempio. Questo numero qua, 1, 0, 0, 1, in base 2, questa parte qui, vale 9, 8 più 1. Poi separiamo il numero qua, 1, 0, 1, 1 sarebbe 8 più 2 più 1, 8, 2, 10, 1, 11. Quindi questo qua in decimale varrebbe 11. Quindi vuol dire che questo numero lo posso scrivere come 11 per 16 alla prima più 9 per 16 alla 0. Quindi è una possibile scrittura di quel numero in base a 16 che ho ottenuto senza fare nessun calcolo, semplicemente dividendo i bit a 4 a 4. Lo posso fare perché 16 è una potenza di 2. Dopodiché per scrivere il numero, questo qui sarebbe il mio a con 0 e l'11 sarebbe l'a con 1. Poi per comodità 11 è fatto da due cifre e quindi male ci sta nella rappresentazione posizionale, allora si decide che se vogliamo lavorare con il numero in base a 16 ci servono 16 simboli diversi, dallo 0 fino al 9 e poi usiamo le lettere A che vale 10, B che vale 11, C vale 12, D 13, E 14, F che vale 15. Quindi vuol dire che questo qua lo scriveremo B, perché è ben deciso che è una cifra unica a cui diamo il valore 11. E quindi scriviamo B9. che è una rappresentazione per questo numero, rappresentazione in base a 16. Quindi se io vi dico prendiamo il numero binario B9 scritto in base a 16, in realtà ti ho dato un numero in base a 16, ma da questo ricavi immediatamente che il numero binario corrispondente è 11, quindi 8 più 3, 9, cioè 8 più 1. Se ti do il numero in base a 16 E73, sarà un numero che ha 3 cifre in base a 16, si dice esadecimali, 3 cifre esadecimali corrisponderanno a 3 per 4, 12 cifre binarie, perché ogni cifra esadecimale si espande in 4 cifre binarie. quindi E vale 14, quindi se 1 1 1 0, 7 vale 7, 0 1 1 1, 3 vale 3, 0 0 1 1. Quindi è un modo più breve per scrivere un numero binario, si può passare al volo dalla rappresentazione in base a 16 e alla rappresentazione in base a 2, semplicemente raggruppando 4 a 4. Siamo obbligati a usare questi simboli aggiuntivi A, B, C, D e F perché in base a 16, ricordiamo, in base a 10 abbiamo 10 simboli, le cifre dello 0 e 9, in base a 2 abbiamo due simboli, 0 1, in base a 16 dovremmo avere 16 simboli diversi che rappresentano tutti i valori interi tra lo 0 e il 15. E quindi visto che i 9 cifre non ci bastano, usiamo le lettere A vale 10, B vale 11, C vale 12, D vale 13, E vale 14 e F vale 15. Un po' come giocate a carte dove avete fante donna re a cui date un valore numerico. Quindi è un modo per non inventarci un simbolo strano che rappresenta l'11 e un simbolo strano che rappresenta il 13. Usiamo le lettere alfabetiche e tanto già le abbiamo. La stessa cosa si può fare con la base 8 anche se è più raro, si usava all'inizio ma ultimamente si usa di meno e funziona esattamente la stessa cosa ma visto che 8 è 2 al cubo, 2 alla terza, i raggruppamenti si faranno a 3 a 3, 3 bit per volta. Quindi per esempio questo 2, 7, 1, chiaramente in base 8 non ho il problema delle lettere perché ho bisogno solamente di 8 cifre e quindi i numeri che vanno da 0 fino a 7 sono sufficienti, non devo mettere ABCDE e raggruppo i numeri. Quindi se io avessi, facciamo un esempio a caso, 1372 che è in base 8, questo qua in binario cosa corrisponde? 1 scritto su 3 bit è 001, 3 scritto su 3 bit è 011, 7 è 111 che è il numero più grande che posso scrivere su 3 bit, 2 è 010 e questo è questo altro numero qua che avrà un certo valore che non so. Se io voglio sapere quanto vale questo numero posso a piacere mio convertirlo partendo dalla base 2 o dalla base 8. Se per curiosità stanotte non riuscite a dormire potete calcolare che questo vale 2 più 8 per 7 più 3 per 8 alla seconda più 1 per 8 alla terza. Farà qualche valore. Per farci i conti sopra non ci serve sapere qual è il valore in decimale, rimaniamo in base 8. Allora, avendo queste nozioni di base io volevo farvi vedere un dei modi per poter anche verificare o calcolare quello che stiamo facendo. Vi ho proposto due modi, questa slide è nuova, quindi se avete scaricato il pdf l'ho appena fatta oggi pomeriggio quindi potete riscaricarvelo, ma semplicemente per darvi il link a un sito che si chiama integer.exposed dove possiamo fare questo tipo di giochi in cui ad esempio io voglio scrivere un valore intero, scusate unsigned, finora abbiamo lavorato con valori senza segno, il valore con segno li faremo la prossima volta, un valore senza segno magari di 37 in decimale e nel momento in cui lo scrivo lui mi scrive esattamente il corrispondente binario e il corrispondente esadecimale in base 16, vedete che in base 16 e sopra se ho scelto 16 bit mi fa vedere i 16 bit corrispondenti. E quindi ad esempio perché 25 è esadecimale? Ma perché vado a vedere i 4 bit più a destra sono 0,1,0,1 che valgono 5, i 4 bit successivi che sono 0,0,1,0 che valgono appunto 2. Ok? E con questo posso giocare a cambiare di bit, anche cliccando su un bit cambia la commuta da 0,1 e quindi mi fa vedere qual è il valore decimale corrispondente, il valore binario per esteso che è lo stesso che c'è qua sopra e il valore in base 16. Volendo possiamo anche scrivere sotto, avevamo il nostro esempio in cui avevamo messo, cos'era, un numero in base 16, che non mi ricordo più che l'abbiamo scritto, avevamo scritto, dove? Ah l'ho scritto sulla slide, scusate qui mi incasino perché ho troppe cose, troppi luoghi in cui scrivo, eravamo scritto E73 ad esempio, E73, allora scriviamolo qua, E73, invio e lui me lo scrive sia in binario dove è facile perché c'è il 3, c'è il 7, che è queste quattro cifre qua e c'è la E che sono queste quattro cifre qua e visto che siamo curiosi in decimale questo numero valeva 3699. Ok? Come vedete non c'è la base 8 perché come dicevo è abbastanza meno utilizzata. Ok? Al giorno d'oggi, quindi qua ci potete giocare, qui ci sono i bottoni per incrementare o decrementare, per spostare a destra e a sinistra, cambiare i bit eccetera, cambiare l'ordine, insomma un po' di operazioni che possiamo fare e cambiare la quantità di bit tra 8, 16, 32, 64 e potete vedere che se metto un numero qua con degli uni in alto nel 64 bit ottengo dei numeri interi che sono insomma abbastanza pesanti, anche lunghi da leggere. Questo interattivamente, se vogliamo giocarci, provare e fare degli esperimenti. Altrimenti ci sono delle funzioni in Python che ci permettono di fare la stessa cosa. Però prima rispondo a questa domanda che mi dice esiste un modo per passare direttamente da esa decimale a decimale e viceversa? Sì, nel senso che da esa decimale a decimale, prendiamo sempre l'esempio di prima che era questo, io posso fare E che vale 15, 7, 3, applico la formula, 15 per 16 alla 2 più 7 per 16 alla 1 più 3 per 16 alla 0, applico la formula. B9 faccio B che vale 11 per 16 alla 1 più 9 per 16 alla 0, stessa formula. Semplicemente dove la base è 16, quindi avrò 9 più 11 per 16, sotto avrò 3 più 7 per 16 più 14, non 15, ho detto male prima, più 14 per 16 al quadrato. È un numerino, dobbiamo farsi i calcoli. Per fare l'operazione inversa è un pochino più rognoso, se avessi un numero in base 10 e vorresti convertirlo in base 16, dovrei fare le divisioni ripetute per 16. E quindi usare il metodo che avevamo fatto prima per fare le divisioni ripetute che era da qualche parte sulla base 2, questo, dei quotienti e dei resti, non l'abbiamo fatto a mano dalla lavagna, non sulle slide, ma è la stessa cosa, semplicemente dovrei dividere ogni volta per 16 e il resto a sua volta è un numero che va da 0 e 15, c'è il resto di divisione per 16. Quindi si complica un po', ma in realtà non lo facciamo, non vi chiediamo di fare questo tipo di conversione da decimale a base 16, eccetera. Perché poi alla fine, come vi dicevo, la base 16 e la base 8 sono solo scorciatoie per scrivere in modo più comodo i numeri binari. Ecco, invece volevo, prima di lasciarvi, commentare le funzioni Python che ho rappresentato nella parte destra di questa slide, che ci permettono di fare alcune, buona parte delle conversioni che ci servono. Ad esempio, allora innanzitutto, i numeri in una base diversa dalla base 10 vanno scritti come stringa, perché altrimenti Python non capirebbe quando io scrivo 2,5 decimale, cioè 25, oppure 2,5 esa decimale, cioè 37. Quindi la presento sempre come stringa. E quindi, però la funzione int, che abbiamo già visto, che converte una stringa da stringa a intero, ha un secondo parametro opzionale che si chiama base. Quindi se io, dunque, avevo da qualche parte aperto Python, e apriamo un REPL, ok? Ok, ingrandiamolo un pochino. Quindi se io avessi int di 25, va, 25, questo lui me lo interessa, interpreta in binario, in decimale. Però se io dicessi che questo 2,5 è da leggere in base 16, quindi la base è 16, lui mi dice che vale 37. Cioè, ha interpretato quella stringa fatta da 2,5, leggendola in base 16, e me la converte in decimale. Ovviamente, se la base è 16 posso anche usare E7,3, no? E mi dà 3699, dove ovviamente la stringa E7,3, se non metto la base, mi dà un errore, perché non è una stringa corretta per la base 10, ovviamente devo essere coerente. Però la stessa cosa, se ho un numero binario, che metto a caso, e dico che la base è 2, convertimelo in intero, mi dice qual è l'intero corrispondente. Quindi convertire il numero da qualunque base alla base 10 è banale, basta usare la funzione int col secondo parametro base, ok? L'inverso si può anche fare, è un po' meno generalizzabile, nel senso che ci sono delle funzioni, conosciamo già str, che dato un intero mi dà una stringa corrispondente, ma esistono queste altre 3 funzioni, binario, tales, decimale, che dato un intero mi converte, mi danno la stringa che rappresenta in modo lo stesso valore, lo stesso numero, in una di queste basi. Quindi se voglio sapere quanto vale 365, che sono i giorni all'anno, scritto in binario, posso fare bin di 365 e lui mi darà una risposta che è una stringa che inizia con due caratteri particolari, 0b, per dire è binario, questa b sta per binario, e poi c'è la sequenza di bit che rappresenta il numero 365. Se io ho lo stesso numero 365 e lo volessi in base esadecimale, scriverei x di 365, lui mi mette anche qua i primi due caratteri particolari 0x e poi il numero 16d, sotto forma di stringa perché ovviamente non può essere sotto forma di numero intero decimale perché ha delle lettere che non dovrebbe avere. Tanto questa notazione con 0x e 0b si può usare sempre, nel senso che se io scrivo 0x33e, lui mi lo converte automaticamente in 830. È un modo di scrivere numeri interi, numeri scrivendo in python, novità, i numeri interi li posso scrivere in base 10, in base 16, mettendoci davanti 0x e vengono automaticamente convertiti non in base 10, in binario, poi dal binario sputa fuori la base 10 quando me lo deve stampare, oppure in binario, mettendoci davanti 0b. Poi c'è anche la versione ottale che ci mette davanti 0 o, ma vabbè, qui abbiamo detto che la base 8 è di più raro utilizzo. Quindi per fare veloci verifiche o veloci conversioni, come sempre se abbiamo un python aperto, lo possiamo fare usando queste funzioni. Non c'è una funzione predefinita per fare la conversione da un numero decimale a un numero di una base qualunque. Se voglio un numero in base 5 o in base 9, me lo devo fare a mano il calcolo, facendo le divisioni successive eccetera. Mentre invece tra le basi binarie, diciamo base binaria, base 2, base 8, base 16, ci sono già le funzioni predefinite per fare tutte queste conversioni. Quindi questo è ciò che abbiamo visto, in qualche modo, numeri positivi, interi, limitati su n-bit e quindi con la problematica dell'overflow e la possibilità di rappresentarli per comodità anche in base 16 essenzialmente. Il prossimo passo che dovremo fare, e lo faremo la prossima ora in cui affronteremo l'argomento della rappresentazione dei numeri e chiederci i numeri negativi li abbiamo dimenticati? E no. Però per rappresentare i numeri negativi la formuletta somma di a con i per 2 elevato i non funziona più. E allora dovremo estendere in qualche modo questo concetto, si può fare in modi diversi e cercheremo di capire qual è quello migliore. Ma oggi non ci sta più perché siamo arrivati alle 19 e quindi ce lo teniamo buono per la prossima volta. Grazie per la presenza, noi ci vediamo mercoledì nella solita aula 4, come al solito, per andare avanti invece sulla parte di programmazione, apriremo i condizionali, la lettura dell'input, eccetera. Buona serata!